Ma che cosa fai? Spegni subito! Volevo fare una foto ma mi si è accesa la torcia per sbaglio! Ma che cosa che non fa? Hai visto anche tu? Ehm, sì? Allora, che cosa ci fai lì? Ero qui col mio amico Rob, a rilassarmi, giusta Rob? Eh? Sei soltanto uno stupido! Hai rovinato tutti i miei piani di nuovo! Non posso crederci! Sei proprio la persona più insopportabile, fastidiosa, egoista che abbia mai conosciuto! Continua! Infatti, lo dico sul serio, dal profondo del mio cuore! Dillo! Dio, Dio, Dio! E tu mi amerai per sempre!